Ciao, sono Della Lega e sono qui per farvi una semplicissima domanda. È davvero questa l'Italia che vogliamo? Con i bambini fluidi che crescono con due mamme e poi si sa che diventano finocchi e sposano l'immigrato. Noi Della Lega, di Matteo Salvini, vogliamo semplicemente tornare alle nostre tradizioni, quelle belle, quelle più sane, dove le donne, vestite da donne, parlano di scarpe. Anch'io le vorrei due scarpe. Sono proprio bellissime queste scarpe. Scarpe, 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 scarpe. E uomini vestiti da uomini che passano il loro tempo a stringersi i coglioni e a divertirsi. Un'Italia semplice, tradizionale, dove l'uomo che lavora tutto il giorno torna a casa e trova il piatto pronto. Dove anche la donna, se vuole, può lavorare tutto il giorno. Ma io quando torno a casa, il piatto deve essere pronto. Un'Italia dove stare bene tra noi italiani. La signora Pina, il signor Marco, la signora Franca, il bel Maurizio. Bello nel senso generico, non è che mi piace. Noi vogliamo un'Italia che si fonda sui valori importanti, la famiglia tradizionale, la difesa della nazione, la cristianità. E... Cosa? Ho sbagliato? Ah, sono le stesse cose che dice la Meloni. E allora? Di più? Cioè noi? Ah, noi di più! Lega, come la Meloni, ma di più! Se la Meloni fa la flat tax al 20%, noi la facciamo al 15%. Se la Meloni fa il blocco navale, noi alle navi spariamo! E se la Meloni vi fa un bel massaggio, noi vi facciamo un seghino. Cioè non noi, nel senso io, chiaramente, è modo di dire, a limite il bel Maurizio. Il 25 settembre, vota Lega.